Salve a tutti, allora abbiamo grazie alla partecipazione dei docenti che hanno fatto o stanno facendo la prova orale del concorso e insomma grazie al loro contributo cominciamo ad avere le domande che più di frequente vengono richieste allora se non lo sapete in questi video troverete un corso strutturato formato da oltre 100 video per la preparazione del concorso sia straordinario che ordinario sia del TFA perché poi essenzialmente le conoscenze che riguardano nella specificità la scuola sono in realtà le medesime di fatto le prime domande che sono state fatte relativamente al PDF, al PEI e al PDP sono domande che vengono fatte notoriamente soprattutto per quanto riguarda i candidati che si preparano al concorso del sostegno anche lì c'è una prova preselettiva scrittorale, non in tutti questi concorsi sono previste prove preselettive allora partiamo quindi abbiamo detto che il PDF che come penso saprete anche perché l'abbiamo affrontato nel corso è il profilo dinamico funzionale il quale ha una funzione specifica, viene redatto dopo il DF, dopo la diagnosi funzionale vengono indicate le caratteristiche fisiche dello studente, psichiche, sociali, le difficoltà di apprendimento il percorso di recupero che si tende a effettuare, le capacità dello studente e del regolamentato vi do anche due riferimenti normativi dal DPR del 24 febbraio del 94 e dal decreto legislativo 297 del 94 andiamo poi al PEI, per chi mi ha seguito queste cose sono ritondanti perché già le ho spiegate il PEI lo deve redigere il consiglio di classe ed è, e disegna diciamo il percorso inclusivo per lo studente con disabilità quindi è un percorso inclusivo per studente disabile vengono nel PEI oltretutto evidenziati gli obiettivi di collaborazione scuola, famiglia infine il PDP sono tutti elementi che troverete nei video nei quali vengono illustrati in maniera approfondita tutti tutte queste il significato di tutti questi di questi documenti essenzialmente il piano didattico personalizzato si usa soprattutto per gli all'unibes DSA quindi vengono redatte tutte le misure dispensative e compensative delle quali ne abbiamo parlato anche troppo vengono fatte domande relative al PCTO ossia domande relative ai percorsi per le competenze trasversali dispensative e l'orientamento ed esse possono prevedere le modalità di didattica innovativa la quale attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite si parla di domande di autovalutazione ne abbiamo parlato tantissimo di autonomia scolastica idem di apprendimento permanente queste due questioni le esalto sia perché non sono sono abbastanza concetti abbastanza lunghi ma ne ho parlato tantissimo di apprendimento permanente anche detto lifelong learning ossia col processo individuale che spetta soprattutto a noi docenti processo individuale in cui c'è un approccio c'è un approccio verso un'educazione che è orientata a tutto l'arco della vita poi inoltre sono state chieste domande sono state effettuate domande relative al GLH vi ricordo che potete potete rivedervi l'articolo 15 della legge 104 del 92 e GLH sta per gruppi di studio e di lavoro e composto ovviamente dall'insegnante di sostegno da insegnanti curriculari dai operatori sanitari dai familiari ed eccezionalmente dallo studente se esso è maggiorenne bene allora adesso vi ho fatto una panoramica di quello che viene chiesto vi potete rendere conto come in tanti già hanno commentato mi hanno mi hanno detto insomma che in questi video troverete tanto 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 materiale basta iscriversi al canale adesso non mi ricordo comunque Francesco Samani nel quale vi è una playlist ossia una raccolta di video specifici per il concorso docenti nei quali troverete tutto l'occorrente per prepararvi in maniera più che idonea al fine di superare il concorso e che altro dirvi non se avete altre domande non temete potete scrivere nei commenti potete commentare i commenti cioè potete mi fate un doppio favore se siete voi a rispondere ai vostri colleghi che fanno magari domande e che cercano aiuto e io dico che questo aiuto è bene che venga soprattutto da noi perché la solidarietà e il fare gruppo tra colleghi è qualcosa di essenziale anche a livello professionale ricordiamoci che noi ovviamente insegniamo la nostra materia ma la insegniamo insieme al consiglio di classe insieme ad altri insegnanti che hanno maturato altre esperienze che hanno altre competenze e dobbiamo saperci rapportare in maniera positiva per non solo diciamo per il buon vivere per vivere serenamente nel nostro mondo del lavoro ma soprattutto per finalità strategiche delle quali risentono gli studenti sapete ormai penso che mi conoscete mi sono descritto ad alcuni ha dato anche fastidio il fatto che mi sono descritto cioè che cosa che ha dato fastidio il fatto che di aver detto che ho vinto nel ho superato in maniera fortunosa quattro concorsi e uno relativo al tirocinio formativo attivo della mia materia la 042 uno relativo al concorso per diventare di ruolo nel 2016 uno relativo una volta che ero già di ruolo ho fatto il concorso TFA sostegno e un altro relativo al concorso per entrare all'università nel percorso di PhD student sono quattro concorsi andate tutti e quattro fortunatamente bene non lo dico per vantarmi ma perché possiate sapere che chi vi sta seguendo in maniera digitale in maniera qui da lontano attraverso questi video non è una persona che si sta improvvisando che vuole vendere del materiale a 80 100 200 euro corsi che costano parecchio oppure insegnanti che si preparano delle slide le mettono insieme e poi le vendono perché dicono vabbè così facciamo pure ci facciamo un pochettino di soldi no sono una persona insomma che quando parla di concorsi sa di che cosa parla ripeto fortunatamente sono stato fortunato a superarli anche perché la selezione è stata forte perché finché non è stata tolta la riforma fornero entrare nella scuola era pressoché impossibile dato che i posti a volte rispetto al numero dei candidati erano anche in un percetto cioè ne passava uno su 100 candidati quindi c'è stata una selezione feroce ed ecco perché io dico che sono stato fortunato perché ci sono stati tanti colleghi bravi almeno quanto me che sono stati ahimè bocciati e tutto questo assolutamente non lo dico per vantarmi ripeto ma lo dico affinché possiate sapere qualcosa di più di me e insomma a qualcuno ha dato fastidio a me dispiace perché magari l'ha pensato come una forma di vanto ma è ovvio che non c'è vanto soprattutto per colui che tende una mano verso tutti quei colleghi che hanno bisogno di aiuto ed è mi rendo come dire disponibile a condividere risorse esperienze a utilizzare il mio tempo per aiutarvi allora devo dire che il 98% delle persone mi hanno ringraziato io parlo a quel 2% perché non mi va poi ripeto di vantarmi è ovvio che a quel 98% di persone che mi dicono grazie io dico grazie a voi perché è ovvio che il mio obiettivo è fare video per voi nel momento in cui voi riuscite a utilizzare questi video per prepararvi per vivere più serenamente questo periodo io sono felice quindi io ho raggiunto il mio obiettivo il mio target il mio goal quindi sicuramente parlavo ad una minoranza per la maggioranza che dire posso ripeto posso solo rinnovare i miei ringraziamenti posso dire che insomma ormai è un periodo abbiamo iniziato a fare video parlo al plurale perché mi avete aiutato voi abbiamo iniziato a fare video nel periodo del lockdown cioè è stato abbiamo condiviso tante esperienze tanti momenti difficili anch'io ho attraversato momenti difficili in questo periodo e non ho cercato di mantenere di dare continuità a a questi video per cercare insomma di portare a termine un compito arduo che mi ero prefissato e devo dire che posso ritenermi sicuramente soddisfatto perché siete voi a ritenervi soddisfatti insomma di quello che vi viene proposto e tra l'altro le caratteristiche dei miei video sono riaccendiamo un pochettino l'animazione perché è caruccio veder parlare lo sacchiotto le caratteristiche dei miei video insomma sono andate sempre di più a confluire verso quelle che erano le richieste e insomma mi avete conosciuto immagino tanto anche perché a me piace non nascondermi mi piace condividere i miei pensieri mi è sempre piaciuto condividere sia la parte nozionistica che la parte umana della persona dai con questo io vi voglio rinnovare un grosso in brocca al lupo perché penso e spero che tutti coloro insomma che si sono preparati continueranno ad avere insomma successo come le persone che finora sono arrivate alla fase conclusiva e mi hanno detto insomma che fortunatamente è andato tutto al meglio vi auguro di nuovo una buona continuazione di giornata e a presto